Le avventure di Olaf, collezione di abbracci. Sono passati diversi mesi da quando Olaf ha aiutato Elsa e Anna a scongiurare l'inverno perenne di Arendelle. Il pupazzo di neve è diventato il beniamino degli abitanti del regno e trascorre le sue giornate alla scoperta della città. Una mattina Olaf vede una fila di bambini diretti verso un grosso edificio rosso. Una parata, esclama allegro il pupazzo. Io adoro le parate. Non è una parata, lo corregge ridendo una bimba di nome Lisbeth. Sono solo bambini che vanno a scuola. Olaf è curioso. Non ha mai visto una scuola. Anzi, a dirla tutta, non sa neppure cosa sia una scuola. Da una finestra Olaf vede Lisbeth presentare ai compagni la sua collezione di conchiglie. Mio padre fa il pescatore, sta dicendo, e ogni volta che torna dai suoi viaggi mi porta una conchiglia e regalo. Ecco perché sono speciali per me. A un tratto la maestra si accorge di Olaf e lo invita a unirsi alla classe. Stiamo facendo un mostra e spiega, dice al pupazzo. Io adoro i mostra e spiega, risponde lui. Ma che cosa sono? Ogni bambino porta a scuola una collezione di oggetti e la mostra ai compagni, spiegando perché è importante per lui, risponde la maestra. Olaf scopre che si può collezionare ogni genere di oggetti, dai minerali ai pupazzetti, dalle frasi d'amore prese dai libri fino ai pesciolini rossi in carne e pinne. Posso presentare anch'io la mia collezione? Esclama il pupazzo. Ma certo, vieni pure alla cattedra, risponde la maestra. Ciao, mi chiamo Olaf, inizia a dire il pupazzo, e colleziono caldi abbracci. Scusa Olaf, lo interrompe la maestra. Di solito una collezione è fatta di cose che si possono toccare. Il pupazzo ci pensa un attimo, poi esclama allegro. Ah, adesso ho capito! Tra lo stupore dei bambini, Olaf svita il suo naso a carota e lo appoggia sulla cattedra. Quindi ci mette accanto una palla di neve raccolta dalla sua nuvoletta personale. Infine, poggia sulla cattedra un ghiacciolo dalla punta spezzata che ha magicamente tirato fuori da dietro la schiena. Non mi sembra che tu abbia ancora capito cos'è una collezione, Olaf, dice a quel punto la maestra con gentilezza. Per essere tale una collezione deve comprendere oggetti che hanno un valore per chi li raccoglie. Ma è quello che ho fatto io? Esclama Olaf, indicando gli oggetti. Beh, di solito non si collezionano parti del corpo, continua lei. Ora vi spiego, esclama allora Olaf. Questa carota non è solo il mio naso, è il primo regalo che io abbia mai ricevuto. Mi ricorda il giorno in cui ho conosciuto Anna e Sven. Appena l'ho infilato Sven ha cercato di mangiarlo. Raccontaci della tua nuvoletta personale, esclamano i bambini. Oh, è speciale perché è un dono della mia amica Elsa, spiega Olaf. I pupazzi di neve non resistono a lungo al caldo dell'estate. Allora lei ha creato una tempesta di neve che mi segue ovunque vada. E cosa ci dici del ghiacciolo? chiede la maestra. L'ho usato per vedere se Christophe stava arrivando a palazzo a salvare Anna, spiega Olaf guardando attraverso il cono di ghiaccio come fosse un cannocchiale. Mi ricorda che cos'è il vero amore, conclude Olaf felice. Il pupazzo di neve si accorge che la maestra ha gli occhi lucidi di commozione. Ehi, ma i tuoi occhi si stanno sciogliendo. Lei annuisce e si asciuga una lacrima, mentre l'intera classe corre a stringersi intorno al pupazzo. Anche Olaf è emozionato. La sua collezione di caldi abbracci sta crescendo a vista d'occhio. Fine